Ciao a tutti ragazzi e ragazze, caotici e caotiche, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, non so quando vedrete questo video in cui parliamo un attimino, facciamo un recap di quello che è successo a C'è posta per te nel secondo episodio, nella seconda puntata sono state delle storie molto particolari, ero indeciso se fare o meno questo recap perché non è una vera e propria reaction però siccome ho fatto un sondaggio su Instagram e ho visto un po' di interesse da parte vostra, ho deciso di fare questo video Cominciamo subito, ma prima sigla! Ok ragazzi, allora la prima storia, io ogni tanto guardo in basso perché ho l'iPad con i vari appunti e il sito fanpage.it che mi aiuta in questi casi insomma Nella prima storia abbiamo Eleonora e Giulio, Eleonora che è una ragazza 24 anni e giovanissima decide di fare una sorpresa a C'è posta per te al suo compagno Giulio e invita il pilota di Formula 1 Charles Leclerc Ecco, per pronunciare questo nome ci vorrebbe un interprete La lettera che scrive Eleonora a Giulio è molto toccante, infatti si è iniziato proprio con questa storia abbastanza bella nonostante è basata proprio su una tragedia però diciamo che c'era un lieto fine, storia molto emozionante perché poi dopo mi sono saltati i nervi ma ci arriviamo tra un attimo leggo molto velocemente quello che ha scritto Eleonora per farvi capire la storia Ti amo dal primo sguardo all'ultimo respiro per tutto il tempo che ci sarà concesso Voglio dirlo a tutto il mondo e dirlo a te La mia storia è iniziata in salita fin da bambina Voglio bene ai miei genitori ma non ho avuto un'infanzia semplice Avevo la vista sfogata e un dolore forte a una parte del viso Quando il dottore mi ha detto della sclerosi multipla il mondo mi è crollato addosso Ricordo che la testa mi scoppiava ma solo alla fine ti ho chiesto perché stavi ancora con me Mi hai abbracciata ed eccoci qui La paura mi tormenta senza preavviso Ho paura di diventare un peso, non me lo perdonerei Ma tu riesci sempre a trasformare la mia paura in pensieri positivi Ci sei tu a iniettarmi la miracolosa voglia di non mollare E merito tuo se ancora sono capace di ridere e di sognare Sei speciale Giulio, sei un essere che andrebbe replicato all'infinito Mi ami e me lo dici, mi ripeti sempre che non mi lascerai mai E che ti manco quando non stiamo insieme I dottori ci hanno rassicurato che non è una malattia ereditaria e quindi avremo almeno quattro bambini È molto positiva la ragazza Grazie per non compatirmi So che soffri molto per aver lasciato la Sicilia che è il suo paese di origine di Giulio La tristezza che vedo nei tuoi occhi mi provoca dispiacere quando è lontano dalla casa e dalla famiglia Questa ragazza, ragazzi, secondo me è meravigliosa Proprio perché diciamo che quando si ha una malattia così brutta Quando si è sul fondo praticamente Veramente avere secondo me una persona che ti sta a fianco e che non te lo fa pesare Cioè che ti aiuta e non ti reputa una persona tra virgolette diversa Penso che questo sia la grazia, la grazia in assoluto Quindi sono stato veramente contento di questa storia, mi ha emozionato tantissimo Ovviamente Giulio ha aperto la busta, si sono abbracciati, si sono baciati, tutto il resto appresso Il pilota Charles Leclerc arriva in studio e oltre a dirgli che comunque la storia è molto particolare Esprime un pensiero che è stato davvero bellissimo e che ha dimostrato l'umiltà anche di questo personaggio E ha detto tu stimi me perché sono un pilota e sono bravo Ma tutto quello che ho fatto io nella mia carriera non è neanche lontanamente paragonabile al coraggio che hai avuto tu e che hai tu oggi Nell'affrontare questa storia e nell'essere così impeccabile come compagno di questa ragazza meravigliosa Quindi diciamo che quelle parole veramente mi hanno fatto venire i brividi E rilascia anche dei premi ai giovani Infatti gli ha lasciato un kit della Ferrari composto dai suoi guanti, quelli che ha utilizzato lui Alcuni cappellini e magliette sia per Giulio che per Eleonora E tra cui anche due biglietti per un viaggio a Parigi E dei biglietti andati e ritorno per la Sicilia Per permetterti di andare più spesso in Sicilia Quindi diciamo che questa storia è finita abbastanza bene Nel senso c'è comunque una cosa gravissima sotto E veramente io stimo quella ragazza e anche lui con tutto me stesso Perché ci fa capire che l'amore ancora esiste La famosa frase di Francesca Michelin L'amore esiste e può nascere dovunque Veramente anche dove non ci aspettiamo Quindi è stato bello Secondo me è stata una bella storia Ma non perdiamoci in chiacchiere ragazzi E andiamo alla storia numero due Che decisamente mi ha fatto un pochino saltare i nervi Perché in questo caso Vanda ha circa 82 anni Ed è madre di quattro figli Tre femmine e un maschio che sarebbe Renato Di cui una femmina, la signora Rita È proprio lì seduta accanto a Vanda Con il suo attuale compagno Il marito di Vanda muore quando Renato aveva 28 anni Quindi era abbastanza grande Quando accade la signora Vanda si ritrova con dei debiti Legati alla carrozzeria del marito Perché il marito aveva questa carrozzeria Rimane a vivere con Renato Quindi le altre tre figlie se ne vanno Lei vive con Renato E Renato però perde il lavoro Quindi la signora Vanda decide di vendere alcune delle sue proprietà E a un certo punto rimangono 40.000 euro Di cui 10 ha una figlia 10 ha un'altra 10 ha un'altra ancora E 10.000 euro decide di lasciarli per lei e per Renato A un certo punto però questi soldi sul conto finiscono Così Vanda e Renato vanno a vivere a casa di Nadia Che è un'altra delle tre figlie di Vanda C'è però una discussione tra il marito di Nadia Quindi il cognato di Renato E Renato Avevano litigato perché Renato non aveva contribuito A un prestito fatto per acquistare la macchina del marito di Nadia Nel frattempo Renato conosce la sua compagna E va a vivere con lei e sua madre Quindi la madre di questa signora Da quel momento Vanda non ha più visto Renato Lei non ha più cercato il figlio perché c'era rimasta male Quando lui se n'è andato In tutta questa storia ragazzi per fare un recap Nella trasmissione c'erano Renato e la moglie da un lato Mentre dall'altro Vanda La figlia Rita e il genero A prendere subito la parola La scena è questa La sorella di Renato la signora Rita Che inizia a dirgli Mamma ho 82 anni E quindi non ce la fa a muoversi a venire a cercarti Io ci ho provato ma ho trovato fondamentalmente le porte chiuse Voglio che mamma prima di passare a miglior vita Penso che il senso fosse quello insomma Comunque 82 anni Arrivasse pure a 100 anni Però penso che il senso era quello Dice cioè non facciamo succedere magari una cosa E non ti sei riappacificato con mamma Per una cavolata alla fine Però lui è come se Rita parlasse A E Renato rispondeva B Perché a parte che la compagna di Renato Su ogni parola che dicevano le persone che erano dall'altra parte della busta Aveva comunque da fare uno sguardo Da ridire Nonostante quella ragazza non ha mai conosciuto la famiglia di Renato Quindi è un po' strana questa storia Ha conosciuto solamente una delle sorelle Che non era quella presente in studio Perché lavoravano insieme Alla fine della fiera Rita prova a spiegare che Gli manca come fratello Gli mancano i momenti di quando erano più piccoli Insomma gli mancano tante cose E voleva riappacificare la famiglia A un certo punto Renato chiede a Maria Mi dici per favore che cosa ti hanno raccontato queste persone E Maria gli racconta tutto Quindi la storia di 10.000 euro Delle varie divisioni tra i fratelli eccetera eccetera Renato dice tutto vero Ma c'è una parte finta La parte finta è la seguente Rita avrebbe detto a Maria Che ha provato a contattare Renato Ma Renato gli avrebbe detto Per me mamma è tipo una frase del tipo È come l'immondizia Può anche finire nell'immondizia Una cosa del genere Renato ovviamente subito nega questa cosa Perché non era vera Dice non è possibile come hai potuto dire una cosa del genere Quando non è vera E lei insiste Dice guarda forse ti sei dimenticato Però tu l'hai detto Insomma non si trova il punto d'incontro A un certo punto Quando inizia a parlare anche la madre Lui diciamo si vedeva sin da subito Che voleva riabbracciare la mamma Insomma Poi figlio maschio e madre Insomma c'è quel rapporto capite no? E quindi voleva Ma la compagna che aveva a fianco O la moglie forse addirittura Dalla quale ha avuto pure un bambino Renato Diciamo che lei era Molto fredda In questa situazione Nonostante avesse due occhi Tanti pieni di lacrime Era molto fredda Non voleva saperne niente A un certo punto Maria Gli dice Senti ma Che cosa vuoi fare? E lei dice Io non aprirei mai questa busta Perché io con quelle persone Che stanno dall'altro lato della busta Non ci voglio avere niente a che fare Allora Maria a un certo punto gli dice Senti ma Ti rendi conto che lì c'è la madre E che senza quella persona Tu oggi non staresti con Renato Perché è stata lei che lo ha messo al mondo E lei dice Sì ma loro non mi hanno mai cercato Loro non mi sono mai venuti vicino Loro questo Loro quei E Maria a un certo punto Se ne va pure un pochino di testa Infatti Maria negli ultimi anni mi sta piacendo Prima mi piaceva di meno Invece adesso C'ha più carattere Non lo so A un certo punto gli ha detto Ma ti rendi conto Che forse la cosa giusta sarebbe stata Che tuo marito ti avrebbe presa Ti avrebbe presentato alla sua famiglia Come poteva la madre di lui Parlare con te Se sapeva che il suo figlio Perché parliamo sempre di mamma e figlio Suo figlio è andato a vivere con tua madre Cioè è normale che c'era pure un po' di gelosia sotto Dice Cioè tu adesso sei mamma anche tu Hai un figlio piccolino maschio Capisci il legame che c'è tra te e tuo figlio E lei continuava a dire Mio figlio non diceva nemmeno nostro figlio Questa signora Perché diceva che lei ha fatto più cose Per partorire insomma Stendiamo un velo pietoso Niente ragazzi non ci sono stati santi Alla fine della storia Alla fine della fiera Renato decide di aprire la busta E riabbracciare sua madre La voleva proprio abbracciare E' stato veramente commovente Perché fa una cosa no? Fa un certo effetto Dopo 18 anni rivedi una madre Che comunque è invecchiata Perché poi quella è l'età in cui magari Si vede di più la differenza Un conto è Che ne so 15 e 25 e 28 E un conto è 70 e 84 82 Cioè La differenza si vede molto di più La moglie di questo Renato Si è alzata E ha lasciato lo studio Cioè ha detto Se tu vuoi Vattelo a conoscere tu Per quanto mi riguarda Finish Cioè Allora adesso dico io no Non è che mo lui Doveva fare qualcosa Perché magari ecco Dice Allora tu non vuoi conoscere A mia madre Allora ciao Perché Nemmeno questo Sta fatto bene Assolutamente no Però dico io C'è una persona Dall'altra parte della busta Che ha 84 anni Prima cosa è il rispetto Cioè il rispetto Sta a una persona Più grande di te Dice A me non mi interessa Ma come non mi interessa Ma quella Come gli ha detto pure Maria Quella è un ruolo Quella è una nonna Quella è una nonna E ha il diritto Di vedere suo nipote Come come vuoi dire A me non mi interessa Non ne voglio sapere niente Ragazzi E' stata abbastanza irritante Questa Questa storia Lei alla fine Era una brava ragazza E' una brava ragazza Però Dico io Cioè tu non hai mai conosciuto Una persona Cioè così Proprio cioè Non hai nemmeno un briciolo Di Non lo so Di umiltà Per tenere questa persona Nella tua vita Cioè Non lo so Un po' di spazio Per questa povera signora Di 82 anni 84 anni Non ce n'è Un po' di spazio Non lo so Mi è sembrata una cosa Veramente Assurda Poi E' stato ancora più agghiacciante Perché questa storia L'hanno mostrata Subito dopo La storia di Donora E comunque Con la sclerosi multipla Eccetera eccetera Dici guarda un po' Cioè ci sta la gente Che Ha veramente problemi Questa si ricrea da sola Ma siamo seri? Vando alle ciance Direi di passare Alla terza storia Ragazzi E mi raccomando Voi se ne avete voglia Scrivete qui sotto Nei commenti Quello che vi ha colpito di più La cosa che vi ha colpito di più Scrivetela senza pensare Scrivete che Io leggo Io leggo e vi rispondo Ah ragazzi Piccolo PS Avevo dimenticato di dire Che Renato Per un po' di tempo Ha insinuato Che La madre Panda Adesso stava vivendo Con La figlia Perché Adesso Prende la pensione Quindi Diciamo Insinuava questa cosa Però poi alla fine Lui da bonaccione Si è abbracciato Sia la mamma Sia la sorella E anche il cognato Infatti è stato veramente Bravissimo Ed emozionante Passiamo adesso Passiamo adesso Ok ragazzi Vedrete la luce Leggermente più bassa Perché mi ha appena scoppiata La luce Andiamo avanti Allora ragazzi La prossima storia È ancora più Strana Più intrigante 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 Ecco qui Perché parliamo di Nicola e Annalisa Qui ragazzi Volano le corna Nel vero senso Della parola Nicola Vende le fedi Di matrimonio Per soldi Per rabbia Per Non si sa che cosa Non si sa Allora facciamo un breve recap Nicola racconta Che dopo anni di matrimonio Lascia la moglie Annalisa Per andare a vivere Con un'altra donna Una donna Con la quale La tradiva già Dopo qualche mese Si rende conto Dell'errore Prova a tornare Con la sua moglie Però ovviamente Questa non gli crede E gli dice Ciao Però secondo lui Lei lo ama ancora Il matrimonio sarebbe andato A gonfie vele Fino al 2014 Quando i genitori Di Annalisa Vanno a vivere con loro Per Nicola Il suocero Era come un padre Si occupava di lui Che aveva l'Alzheimer Era l'unico Che poteva toccarlo Nel 2018 Inizia però La loro crisi matrimoniale Perché la suocera Decide di riportare Il padre In Germania Mi sembra Dopo varie vicissitudini A un certo punto Decidono di mettere Il padre Di questa ragazza In una struttura In cui muore 20 giorni dopo Dopo la morte del suocero Nicola e Annalisa Ragazzi iniziano a litigare Quindi la situazione Non era più tranquilla E Nicola Inizia a frequentare Una ragazza Che diceva Quando lei poi L'ha scoperto Che era la stessa ragazza Però poi L'ha scoperto Che era un'altra ragazza Quindi che non si parla Della stessa persona Nicola nel luglio del 2022 Capisce che gli mancano Sia la moglie E sia il figlio Perché nel frattempo Poi avevano avuto Anche un figlio Ad agosto Si accorge di non amarla E la ragazza Con la quale stava E di amare sua moglie Lo dice a questa A questa ragazza Con la quale stava Questa convivenza Clandestina Si interrompe E da allora Prova a tornare Con la moglie Ovviamente La porta c'è posta per te Per chiederle scusa Per fargli vedere Che ha comprato Altre due fedi Perché quelle lì Le aveva vendute Le fedi vecchie Le fedi del matrimonio Per rabbia E porta due nuove fedi Per fare una sorta Di promessa Davanti a tutti Per dirle che Adesso è cambiato Adesso ha capito Di amarla Eccetera Ovviamente Questa ragazza Anna Lisa È stata veramente Fin troppo calma Secondo me È stata Super super tranquilla Ce l'aveva quasi in pugno Sto Nicola A questa ragazza Perché ogni cosa Che gli diceva La metteva in modo Che lei avesse In un qualche modo Non torto Però Che il suo discorso Il suo ragionamento Non erano Basati su un qualcosa Di costruttivo Invece Quelli che faceva lui Sì Aveva delle scuse Quella più Preponderante Diciamo Di tutto il discorso In poche parole Nicola Le dice Da quando è morto Tu padre Che per me Era un padre Sono cambiate tante cose La tua famiglia È sempre stata Contro di me E quindi questo Mi ha spinto A tradirti E giustamente Lei le dice Ma com'è C'è C'è un problema Con la mia famiglia E tu che cosa fai Per sentirti più libero Mi tradisci Ti crei un'altra storia La porti avanti Per due anni Non è una cosa Proprio che fila bene E quindi Lui C'è stato Veramente Secondo me 20 minuti Sempre delle stesse cose In cui lui Le chiede scusa Le dice No non va bene Le chiede scusa Le dice No non va bene Insomma Se ero io Già Avessi chiuso Questa busta L'avrei proprio Chiusa E l'avrei spedita Direttamente All'altra parte Del mondo Se non che ragazzi A un certo punto Questa ragazza Dice No io La busta Non la apro Perché non ti amo Proprio più Cioè Al di là del fatto Del tradimento O dei tradimenti Io Non provo più Sentimenti per te Quindi chiudiamo la busta E chi si è visto Si è visto E fin qui ci siamo Se non che Ho trovato su internet Una cosa che mi ha Sconvolto letteralmente E che adesso Vi faccio vedere Dopo qualche tempo Dalla registrazione Annalisa Ha deciso di dare Un'altra possibilità A suo marito Nicola Le parole di Nicola Sono state Nonostante la chiusura Della busta Ho continuato a dimostrare Di voler sistemare Il mio matrimonio E ci stiamo avvicinando Annalisa risponde Dopo la registrazione Lui non ha smesso Ogni giorno Di dimostrare Con i fatti Di essere realmente Pentito e cambiato A oggi Stiamo dando Ci stiamo dando Un'altra possibilità Adesso Allora Secondo me Se una persona T'ha messo le corna Una volta T'ha messo le corna Due volte Aspetta la terza E poi lo mandi C'è nel senso C'è nel senso Secondo me Può anche essere Realmente pentito Però Come fai a fidarti Ancora di una persona Fosse stata Una corna Messa una sera Ok Lei lo può Se la sa tenere Sta cosa Se si sa tenere Il fatto che il marito È andato a letto Con un'altra Gli avrebbe pure potuto dire Sai che c'è Ok Mi ha cornificata Ti perdono Ma questo Si è fatto la relazione Cioè lui si è fatto la relazione Per due anni Con un'altra donna E tu Tutta contenta Ci stiamo dando Un'altra possibilità Quando oggi Poi ho visto questa notizia Mentre mi stavo sistemando Gli appunti Per fare il video Ho detto Ma non è possibile Cioè per carità Tanti auguri Figli maschi Ma pure femmine Però Boh non lo so Voi che cosa ne pensate Di questa storia Io Sono alquanto sconvolto Devo esprimere pure Il mio parere E il mio parere è questo Cioè secondo me Se lui si è tradito Due volte Perché non farlo Anche una terza Cioè che cosa Se tu tutto quello Che potevi dare Glielo hai già dato Tu Annalisa Non gli puoi dare più niente Cioè Gli hai dato pure un bambino Che altro gli devi dare Per dirgli Cioè Non ha senso Poi lei a un certo punto Gli ha detto Io non lo amo più Quindi non lo so È una storia Un pochino particolare Fatto sta che mi sembrano Lei è una brava ragazza Lui è un bravo ragazzo Al di là delle corna Eccetera eccetera Quindi Se si faranno Un futuro felice Sono sicuramente Contento per loro Meglio le coppie Che litigano E poi fanno pace E ci mettono un punto Che non le coppie Che magari restano Cornificate Per tutta la vita Senza Un domani Questa storia Mi ha davvero Fatto Incavolare Questa Di cui parleremo adesso Forse è stata quella Che mi ha innervosito Di più Tutta la serata Perché veramente Poi a un certo punto Ho fatto pure la storia Su Instagram Ho detto no Non è possibile Che una persona Giovane Più giovane Di me Perché parliamo Di un ragazzo Il cui nome è Giovanni Chiude la busta Di fronte alla madre Che lo supplica Di abbracciarla Adele Ha due figli Ha Viene a c'è posta per te Per il figlio Giovanni Che vive con l'ex marito E non le parla Dal 2019 Il racconto riportato Da Maria È il seguente Mio figlio Mi ha detto Che se voglio recuperare Con lui Il rapporto Devo tornare Con il padre Ci siamo sposati Con il mio ex Quando eravamo Giovanissimi In viaggio di nozze Ho scoperto Che lui Era un uomo maschilista Abbiamo avuto Due figli Per questo Ho deciso Di andare avanti Decido di specializzarmi E facendo l'estetista Decido di fare Un corso di aggiornamento A lui non andava bene Pensava che mi avrebbe portata Lontano dalla famiglia Per me invece Quel corso Era importante Così decido di iscrivermi Dopo pochi mesi Mi vedo recapitare Una richiesta di separazione Resto stupefatta Perché se c'era qualcuno Che aveva motivo Di separarsi Quella ero io Quando gli chiedo Perché Mi risponde Hai tirato fuori La testa dal sacco Adesso cammina I miei figli Restano con me E il mio ex Se ne va di casa Poco dopo Lui rientra E davanti ai figli Mi dice Con tono sprezzante Che è pronto a tornare con me Ovviamente Rifiuto E lui se ne va Dopo qualche tempo Mio figlio Quindi questo Giovanni Dice ad Adele Dice ad Adele La madre Che vuole fare Un weekend Col padre Poi però scopre Che ha portato via Tutte le sue cose In poche parole E' tornata a casa Nell'armadio non c'era più niente Nell'armadio di Giovanni Mi dice che mi parlerà Solo se torno con il padre Se lo rivedo E' solo grazie Alla mia ex Suocera Assurdo Giovanni che cosa fa? Giovanni accetta l'invito Ma resta impassibile Ragazzi E dire impassibile E dire veramente poco Anche se gli si leggeva in faccia Che non era così Ma che sotto sotto Ovviamente ma ci mancherebbe altro C'è la madre Voglio dire Comunque Lei gli dice Comunque ciao Figlio mio Voglio tornare ad essere tua madre Facciamo pace Dimmi che cosa ti ho fatto Insomma Sta povera crista Non ha fatto niente Questa è la verità Cioè Ha fatto tutto quello Che poteva fare Per salvaguardare Il rapporto con i figli Ed avere un rapporto civile Con il marito Ma questo non è stato possibile E non solo da parte sua La risposta di Giovanni E' stata che non gli dispiaceva Vederla in quello stato A mamma ho detto Che davo questa opportunità A mio padre Per far tornare La famiglia riunita E lei ha detto di no Per tre volte Invece per i figli Si fa tutto Quindi lui ha continuato A stare sulle sue Ragazzi Ma veramente Cioè quella povera ragazza Perché era pure giovane Piangeva Piangeva E questo lì così Che gli si leggeva in faccia Che in realtà Non lo voleva Però è come se Non lo so L'impressione ovviamente Come se qualcuno Gli avesse fatto Un lavaggio del cervello Gli avesse detto Guarda quando C'è posta per te E lo sai Che 99 su 100 Ci sta tua madre Non devi assolutamente Aprire quella busta Ovviamente È un'impressione Magari non è così Però la mia impressione È stata quella Adesso dico io C'è una signora Davanti a te Ed è tua madre Sta piangendo Davanti a tutta Italia Ti sta supplicando Di fare Tra virgolette Pace No Tu sono anni Che non la guardi in faccia Semplicemente perché Non è tornata con tuo padre Ma vi rendete conto Che la vita è una E non potete rinnegare Una madre Per non aver fatto niente Cioè Ci rendiamo conto Comunque ragazzi Per non farla lunga Questo che cosa fa Chiude la busta Cioè Non è che la chiude Tira avanti Tira avanti Tira avanti Umiliazione dopo umiliazione Per questa povera signora A un certo punto Maria gli dice Ok Visto che Non vuoi fa niente Chiudiamo la busta E lui dice Che lei avrebbe dovuto Fare tante altre cose A un certo punto Se la prende pure Con la sorella Roberta Con la sorella Di proprio sua Di Giovanni Perché dice Che non è andata Al suo compleanno E quindi merita Di non essere più parlata Per tutta la vita Cioè Ma ragazzi Ma siamo seri Ora Ci possono stare Tante dinamiche Comunque familiari Che uno non sa Perché comunque In tv Poi passa quello Che deve passare Non è che ci stanno Tutte le cose E dicono tutte le cose Però È un programma televisivo Se c'era qualcosa Di importante Sicuramente Lo avrebbero detto Ma dico io Come fai A A non parlare più Una sorella Perché non è venuta Il tuo compleanno Allora Dico io Ci sono delle persone Che una sorella Oppure una mamma Non ce le hanno più E non possono scegliere Allora Prima che mi parte Il nervoso Pure oggi Perché io poi sento Ste storie No Io per questo Ste cose Dici apposta Per te Non le devo fare Perché poi a me Mi parte la scintilla Mi prende il panico Mi viene l'ansia Lui decide di chiudere la busta Decide di andarsene Maria disperata Va vicino ad Adele Gli dice Senti io ce l'ho messa tutta Sicuramente Lui vuole fare pace con te Ma qui ha preferito Non Non aprire la busta Ma Non è finita qui Ragazzi Perché anche in questo caso C'è stata una Revolution Della situazione Dopo qualche tempo Dalla registrazione Mamma e figlio Si sono ritrovati Mamma Adele dice Il momento più bello E tra le tue braccia Il mio piccolo grande uomo Con te la mia vita Si è completata Sono strafelice Giovanni risponde Dopo tanto tempo Ho ritrovato il coraggio Di avvicinarmi di nuovo Alla mia mamma Per carità Ti fa tanto onore Complimenti Come nella storia precedente Auguri figli maschi Però ragazzi C'era bisogno di umiliarla Davanti a tutti quanti L'importante è che Abbiano fatto pace E che abbiano ritrovato In un certo senso L'armonia Ma Beviamoci un altro Cuccino di caffè Che nel frattempo Si è affreddato E andiamo con L'ultima storia Che la vedrò In diretta Insieme a voi Perché in realtà Io questa storia Non l'ho vista Perché quando C'è stata la storia Di Giovanni e la madre Era mezzanotte Io pensavo che fosse finita La trasmissione Invece poi Oggi sono andato a vedere E c'era un'altra storia Con ospite Luca Argentero Siccome io non l'ho vista A questo punto Mi sono trovato Un pochino di pagine Un pochino di cose La guardiamo insieme E ce la leggiamo Io non la conosco Luca Argentero Abbraccia Anna Maria Rossella si sente in colpa Ma è difficile Gestire un lutto Quindi qui si va sul pesante Strano però Che Luca Argentero Lo abbiano fatto entrare Alla fine La sorpresa per Anna Maria Prevede la costruzione Di un muro in studio La donna non capisce Nemmeno immagina Che ci sia Sua figlia Dall'altro lato Della busta Rossella Prende la parola Ciao mamma Da quando papà non c'è più Si è alzato un muro Tra di noi Da giugno In casa nostra Regna il silenzio Pensavi di avere Una figlia sensibile Matura E mi sono dimostrata Il contrario Sono qui stasera Per farmi perdonare Per tornare a darti Tutto l'amore del mondo Maria Maria legge la lettera A casa nostra Era un continuo ridere Quel nido caldo Che tu e papà Avete messo insieme Con mille sacrifici Era la casa Che ogni bambino sogna Tre figli voluti E amati Tu e papà Innamorati Come il primo giorno Nonostante il lavoro In fabbrica Non vi abbiamo mai sentito Lamentarvi Tu mamma Hai sempre strafatto Per noi Ogni tanto Da ragazzina Azzardavo un capriccio Come un paio di scarpe E se sul momento Ti toccava dirmi di no Puntualmente Quelle scarpette Arrivavano Quando il mio matrimonio È naufragato Quindi in poche parole Questa si è lasciata La figlia Mi avete ripreso in casa Insieme al piccolo Lucas Quindi il bambino È andato con lei Ovviamente Mi ha insegnato A fare la mamma Quando è arrivato Il momento Di restituirti tutto Sono stata egoista E immatura Se solo avessi capito Staremmo male uguale Ma almeno Saremmo ancora unite Come siamo sempre state Insieme Siamo qui Sempre vicine Ma immensamente lontane Era dicembre del 2021 Quando papà entrava in ospedale Per dei lividi sulle gambe E le piastrine sballate Tu andavi in fabbrica E poi uscivi E andavi all'ospedale Ogni sera Stavi alzata in cucina A preparargli cose da mangiare Ti fermavi in ospedale Fino alle nove di sera E poi tornavi a casa Per rassicurare tutti I giorni si susseguivano E papà non tornava Eppure io Lasciavo che tu Ti occupassi di tutto Avrei dovuto abbracciarti di più Chiederti se avevi paura E invece Mi facevo andare bene Tutte le tue rassicurazioni Io sono andato a trovarlo poco e niente Non voleva farsi vedere E tu dicevi che era meglio rispettarlo Pensavo che avremmo avuto altre occasioni E invece non ne abbiamo avute Si è spento il nonno Che Lucas Continua a reclamare Quando in ospedale ci hanno dato la notizia Mi hai detto di non abbatterti Da quel giorno Non abbiamo mai pianto insieme Ti faccio vedere che non mi abbatto E invece ogni sera Ascolto la voce di papà Nella chat che abbiamo Stasera sono qui Per chiederti di tendermi la mano Torniamo a essere noi Papà manca tantissimo a entrambe Nulla cura più del conforto che io E te sappiamo darci Mi manchi mamma Sei sempre stata fondamentale per me Sono qui che ti aspetto Per dirci tutto a voce In una serata tanto speciale Ci tengo a farti una sorpresa Dalla scala scende Luca Argentero E il viso di Anna Maria Si apre in un sorriso L'attore ovviamente la abbraccia E le dice Rossella si sente in colpa Ma è difficile trovare il modo migliore Di gestire un lutto Quindi immagino anche un lutto Tra virgolette inaspettato Quindi ragazzi Questa era l'ultima storia Sicuramente mi ha commosso Anche nel leggerla Perché non ne sapevo proprio niente E sicuramente Spero che questa famiglia Anche in questo caso Si sia in un certo modo In un certo senso Riavvicinata Anche se non si era allontanata Però si sia rafforzato Il loro rapporto Così da superare insieme Questi periodi Questi momenti Che sicuramente Saranno difficili Ok tra le altre cose Ho anche visto un pochino Qui sopra Mi sembrano anche delle persone Veramente molto molto brave E buone Però purtroppo Le cose brutte succedono Non ci possiamo fare niente Ma voltiamo pagina ragazzi E torniamo a noi Dopo questo Excursus Di tutta la puntata Di C'è posta per te Lasciatemi un bel like Se questo video vi è piaciuto Se vi ho tenuto compagnia E forse Non è sicuro Ma oggi Credo che saranno usciti Due video addirittura Non ne sono sicuro Però eh Non ne sono sicuro Quindi magari no Comunque Vi mando un abbraccio Un bacione Aspetto un vostro commento Mi raccomando Se dovete dire qualcosa Utilizziamo sempre Una terminologia Appropriata Ogni tanto sono il primo Che mi parte Alla scintilla E sparo una parolaccia E vi chiedo scusa Per questo So che non è corretto Io vi mando un abbraccio Vi mando un bacione Non ci scandalizziamo Ci vediamo Nel prossimo video Alle 18 E vi mando un abbraccio Ne ragazzi Fortissimo Ciao Ciao